È tutto orientato alla internazionalizzazione, il calendario 2018 dell'Arma dei Carabinieri. 12 mesi con tavole di artisti del mondo, accompagnati da tavole di Ugo Nespolo, per portare l'Italia in ogni angolo del globo. Novità di questa edizione, dopo la lingua araba introdotta l'anno scorso, anche il russo, il cinese e l'indiano. La presentazione, questa mattina, presso il comando provinciale di Via Beverora. Quest'anno il focus è sulle attività internazionali dell'arma. È un calendario a cui io personalmente tengo molto, perché molte di quelle attività ho contribuito a portarle avanti quando ero nel precedente incarico a Roma, al Comando Generale, all'Ufficio Cooperazione Internazionale. Per cui lo sento particolarmente anche un pochino mio. Questo calendario gira il mondo, viene portato nelle organizzazioni internazionali, viene portato alle forze di polizia con le quali collaboriamo in tutto il mondo. ed è un veicolo con cui si porta sì l'arma dei carabinieri, ma soprattutto l'Italia nel mondo. È sempre stato molto apprezzato e il fatto di proporlo nella lingua di origine di questi paesi, ovviamente è un gesto di sensibilità ulteriore verso la collaborazione con questi paesi. Il calendario sarà tirato in circa un milione e mezzo di copie. Il calendario è internazionale dell'arma. Per farlo...